Ciao a tutti, sono Cristian, tecnico specializzato outdoor maxisport. Oggi mi trovo nello splendido parco del Curone per testare la nuova nata in casa Garmon, la scarpa Dragon Tail Tec GTX. questa scarpa è pensata per chi come me ama camminare in montagna con una scarpa bassa e leggera senza però rinunciare alla stabilità e all'aderenza caratteristiche fondamentali per affrontare pendenze e sentieri rocciosi. Questa scarpa ha una calzata avvolgente abbinata ad un diverso volume nell'avampiede per il massimo comfort mantenendo la precisione per le performance più tecniche. L'allacciatura fino in punta permette di regolare la calzata quando la si utilizza per arrampicare. Anche in questo modello Garmon ti ripropone la tecnologia Hill Lock, l'allacciatura che racchiude il tallone evitando la scalzata della scarpa e prevenendo fastidiose vesciche. La tomaia in pelle scamosciata è estremamente resistente e la tecnologia Gore-Tex assicura traspirabilità ed impermeabilità. Questa membrana permette al piede di respirare in attività ad alta intensità e di rimanere all'asciutto in condizioni di passaggi in zone umide. La suola Michelin garantisce un ottimo grip, massima flessibilità e leggerezza. La zona della punta ha una mescola specifica per l'arrampicata, caratteristica che la rende perfetta anche per l'avvicinamento tecnico. Garmon Dragon Tail Tech è la compagna ideale per chi cerca una scarpa da trekking bassa e versatile. Perfetta per camminare su ghiaioni e rocce esposte. Visto il comfort di calzata la consiglierei anche per lunghi trekking.